musica signori e signori eccoci qua con queste due nuove sono state ribattezzate la nuova panna chiara, il nuovo duo della televisione italiana altro che Italia 1, altro che Italia 5, altro che Massetto, altro che Rai qui, TV con vento, con loro un applauso andiamo a conoscerne Spiro Obrigo, prima la festeggiata, ciao, come ti chiami? Valentina Valentina, quanti anni hai? 23 Valentina, 23 anni sono vecchia Villefranca sei vecchia tante persone a casa in questo momento vorrebbero picchiarti al tuo fianco troviamo lei Viviana ciao Viviana, quanti anni fai? 22 Viviana, 22 anni, effettivamente lei è più giovedì è il 5,5 sono già più vecchia io ma quest'anno fai il 23 si ci piace bene, allora ragazze siete amiche da tanto? è abbastanza circa meno quasi quant'è che vi conoscete? 10 anni 12 10 anni ci piace scuole assieme? purtroppo le medie ma hai avuto lo stesso onoroso? no fortunatamente abbiamo tutti molto diversi ci piace ci piace bene in questa cosa ne sono molto niente anche se si può sempre essere un bel uomo no 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 vuoi bianco? ci sta ci sta a quale dei due uomini? dai scherzo allora ragazze che è bellissima il mondo insieme a te di lui un uomo un perché è un po' mai come sono adesso forse non avrei questa forza addosso forse non saprei e anche fare un passo forse crollerei su un altro e basso invece tu sei qui e mi hanno avuto questo e me e tu sei qui e mi hanno avuto e mi hanno avuto i miei figli e mi hanno avuto perché la mia esistenza componendoci dando loro una coerenza come il mondo del te è possibile e mi viene che tutto ciò che vedo c'è non è ampio lo sanno e mi hanno avuto per guardare ciò che tu ti vuoi vedere non è grande non è grande non è grande non è grande come rimane e mi viene 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 perciò non avrei mai trovato un posto forse non potrei neanche cosa è giusto forse non sarei e mi viene 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.